C'è Beppe in linea, salutatelo, un abbraccio. Adesso l'idea è in Italia, c'è Di Manco e io non ci sono. Questo è un segnale straordinario, le piatte sono piene a prescindere da me. E questo è il più grande del fatto della mia carriera. Fare successo senza esserci più, direttamente. Non sono più uno specchietto. Non avete più bisogno della mia presenza. E' una presenza che ci sarà sempre, specialmente in questa situazione, dove noi, io ho un sospetto, noi non vinceremo, noi trionferemo. La volta mese trionfale farà un mese di cosce e di sangue, ma comincerò anch'io a girare le piazze insieme a noi, ai parlamentari, ai rappresentanti, a quelli che saranno candidati all'europeo, che io ho conosciuto insieme a Luigi oggi a Milano. Era bellissima. Io mi presentavo, mi presentavo loro, piacere, sono Grillo, e loro mi dicevano piacere, mi chiamo Gianni, Fabrizio, Cina, non ci conoscevamo. E questo è un straordinario risultato. Noi non ci conoscevamo. Quindi, con il 5 di maggio, io comincerò di nuovo coltanto, a girare tutta l'Italia, fino al 23. E qui saremo insieme, saremo insieme di nuovo a queste piazze, come con chi e rai, saranno miliardi e miliardi di persone. Quindi, è giunto il momento di fare una scelta politica e convincere la gente che è solo una scelta politica. O noi, o loro, non ci siamo più assolutamente esatteggiamenti di niente. E voglio andare via tutti. Dobbiamo asperare questa classe politica e questa classe imprenditoriale di Latina e ricominciare un pensiero nuovo per l'economia e la politica, per il ciclo, per il turismo, per la cultura, per l'istruzione, un ciclo di pensiero nuovo. E questo è il momento. Non ci deve sostituire una classe politica con noi. Noi vogliamo che le istituzioni di vecchio, i cittadini italiani, e queste intermediazioni, che guardano alla ragione di noi, che non c'è un movimento del fine Europa, ma neanche nel mondo. Abbiamo votato con tre clic sul mio iPhone, in macchina. Abbiamo venuto le luci tre mesi prima di promuovere il Parlamento. Abbiamo fatto quello che abbiamo visto. Quindi, inutile stare a dire le stesse cose. Diremo le stesse cose in questa campagna politica. Diremo un euro, diremo un altro accesso, diremo un'altra Europa per i cittadini. e ci lo diranno tutti. E il programma ce l'hanno copiato tutti. Quindi è l'ora di dire chi è credibile in questo Paese, chi non è più credibile. Questa gente che ha votato, amore, e i trattati che ci stanno strangolando, europei, hanno avuto qualcosa, è il meccanismo, il meccanismo, insomma, il meccanismo del parco di stabilità, del stabilità di disfaccio, parecchio di piaccio. E le disfaccio che hanno votato sono quelli che hanno fatto, sono affronto quei trattati mesi. È la credibilità che ci giocheremo. E dato che noi siamo credibili, e gli altri no, tra vinceremo. Signori, amore loro, noi siamo in highlandia della politica, le malattie, che rimarrà a fare il male. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.